Obiettivo Fiumi Sicuri, continuano gli interventi del Consorzio nel territorio casentinese? Sì, tanti cantieri aperti in tutto il Casentino per completare il piano delle attività. Il piano delle attività si concorda con i sindaci la stagione precedente, viene stato approvato dalla Giunta regionale più o meno a febbraio e appunto viene portato a termine in questi mesi. Sono opere di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, quindi sfalci e manutenzione delle opere presenti che rientrano appunto nei caratteri dell'ordinarietà. Ricordo che l'obiettivo dell'ente che rappresento è quello di mitigare il rischio idraulico, un obiettivo che è ancora più strategico in questo particolare momento storico dove purtroppo i cambiamenti climatici vedono, ahimè, sempre più frequenti momenti in cui le precipitazioni arrivano in maniera violenta, si concentrano in maniera forte in pochissimo tempo. Quindi è sempre più importante mantenere un retricolo idraulico quanto più possibile in efficienza. Nel territorio, mi riferisco soprattutto a un intervento a Poppi, stiamo portando avanti anche un intervento di manutenzione straordinaria con la messa in sicurezza attraverso una scogliera delle sponde dell'Arno. Intervento questo finanziato dall'autorità di distretto e questo evidenzia quanto il mio ente in sinergia con i comuni, quindi con il territorio, ma anche con gli enti sopraordinati, in primis la regione, ma in questo caso l'autorità di distretto, quindi l'autorità di Bacino, lavori proprio per tenere un territorio quanto più possibile efficiente dal punto di vista idraulico.